I messaggi fondamentalmente erano uno relativo all'ETS, all'ingiustizia che noi operatori italiani ha e lì il ministro Salvini l'ha colto, ha fatto alcuni spunti, addirittura ha parlato lui di un China Gate, l'avete sentito? Non io, quindi in questo l'ho accolto perché ragazzi in Cina più del 50% delle importazioni di carbone al mondo sbarca in un porto cinese, ci hanno detto andate a gas, andate a gas, 10 anni fa facciamo le navi a gas, non va più bene, noi siamo penalizzati con gli investimenti che abbiamo, in Cina vanno con le centrali a carbone, nessuno dice niente. Devo dire Salvini ha risposto sul piano della burocrazia invece che era l'altro argomento, la sburocratizzazione, ecco su questo ci tengo a sottolinearlo e spero che gli diate, anche se certamente meno interessante sotto il profilo dei media, però ci aspettiamo una risposta dal Parlamento qui, non dal governo. Noi, il Parlamento, nella Costituzione dice che è il Parlamento che fa le leggi, è il Parlamento che deve fare il decreto Malan, portarlo avanti perché lì c'è il discorso della perdita di competitività della bandiera. Abbiamo firmato un protocollo per la sicurezza sul lavoro nei cantieri e nei porti, però ho trovato tante opere ferme, tanta burocrazia, troppa burocrazia e quindi stiamo lavorando dal porto di Genova a Gioia Tauro, a Trieste, a Livorno, alla Sicilia, che col ponte avrà uno sviluppo anche dell'attività marittima incredibile, stiamo lavorando per sbloccare perché ci sono alcune norme ideologiche che impediscono di fare il lavoro agli armatori che però stanno portando un incremento di lavoro e di ricchezza in Italia assolutamente notevole. Mi piacerà impegnarmi perché ci siano sempre più bandiere italiane. Oggi sul mare si muove il mondo e anche il G7 che si è concluso ieri in Giappone ha avuto al centro la mobilità e in particolare i Green Corridor è tutto il tema della connessione tra i vari stati, soprattutto tra i principali stati industrializzati, ma anche la possibilità di aprirsi. L'accenno ad esempio che ha fatto il Presidente Messina sul mercato africano è assolutamente interessante, sia per una stabilizzazione sul Mediterraneo, sia anche perché è inutile pensare anche di diminuire le emissioni solo in Europa, bisogna riuscire in qualche modo a far sviluppare un modello che vada a contaminare tutte le realtà. Mi piace sottolineare che con Assarmatori abbiamo un metodo di lavoro molto positivo che abbiamo già avuto modo di sperimentare in passato a livello europeo e che dobbiamo proseguire in questa fase nel tutelare gli interessi del nostro Paese. Dall'altra ci sono tutti i temi collegati al piano nazionale di ripresa e resilienza, ma non solo a quello, sulla capacità di spesa e sull'idea che il Governo ha di scegliere di finanziare in modo concreto un sistema infrastrutturale che possa rafforzare la portualità del nostro Paese. Siamo dei professionisti che lavorano duramente per ciò che sanno e devono sapere quali sono i problemi da affrontare, dobbiamo anticiparli. La transizione ecologica è importante, io su Genova sto parlando con i comitati cittadini per fargli vedere esattamente tutta la tecnologia che stiamo mettendo nelle navi ed è giusto che portiamo la problematica al tavolo politico perché il tavolo politico possa non solo in Europa ma anche a livello romano iniziare a dare, a dettare dei tempi, dei modi e delle soluzioni che siano veramente sostenibili, fattibili in maniera concreta. Complimenti a Stefano Messina perché è un aggregatore, è uno stimolatore, ci sono tanti genovesi in assarmatori e qua a Roma è bello sicuramente vedere questa genovesità come è giusto che sia perché parlando di mare è giusto che ci siamo noi in primis perché è la nostra industria.